Teoria della Al Bildung, Teodoro Adorno. Leggo un commento che fa la traduttrice del libro, Giancarla Sola. Le cose che dice Adorno sono estremamente importanti per noi oggi. Adorno nel 59, questo è un testo del 59, del 1959, dice, si ha oggi un'inedita condizione propria dell'individuo moderno occidentale, che vive la sua formazione in modo superficiale, incompleto, dimediato, animo, cioè in modo deumanizzato. Eccoci, poi fermiamoci già su questa frase. Che vuol dire vive la sua formazione in modo così? Cominciamo da questo Bildung. In tedesco vuol dire formazione. Adorno ci dice, la formazione tedesca, quella che si usava a un tempo, conduceva a un essere umano tendenzialmente umanizzato, perché era una buona formazione. Adesso invece abbiamo non la Bildung, ma la Alb Bildung. E che cosa significa Alb? Vorrebbe dire dimezzata, ma il senso vero è deformazione. Quindi prima c'era una formazione e oggi abbiamo una deformazione. Per capire questo dobbiamo entrare in un discorso concreto. Chi è che forma gli individui? È di solito la scuola. E allora abbiamo due modi di far scuola. Uno animico, che forma individui umanizzati. E poi c'è un modo egoico, che forma individui deumanizzati. Come capite, non è un problema da poco, perché oggi viviamo qui. Ecco perché abbiamo i problemi di oggi. Perché anziché avere una vera formazione, una formazione che ci rende individui umani, noi abbiamo una deformazione, una cattiva formazione, quella neoliberista, l'abbiamo detto tante volte, che non crea individui umanizzati e quindi individui capaci di aggregazione, sia interna, nel proprio interno, nella propria psiche, sia nella società. Una società la cui cifra sia l'aggregazione. Quindi sia a livello individuale che a livello collettivo, la buona formazione conduce a aggregazione, integrazione, coesione. Senza questa formazione, la buona formazione, che tra l'altro è prevista, come abbiamo detto infinite volte, nell'articolo 3, pieno sviluppo della persona umana, non è possibile nessuna democrazia. Allora, siccome abbiamo detto appunto tante volte, ecco, ho ripreso oggi un autore in mano che già nel 59 scriveva cose molto utili per quello che stiamo vivendo oggi. Ora, riprendiamo da qui. Scuola animica genera un individuo umanizzato, quindi un individuo che segue i principi dell'anima, i principi divini che sono al proprio interno e che quindi è predisposto a partecipare a una società sana. L'individuo di umanizzato, tutto deformato, ha una formazione, come ci ha detto Adorno, che è questa. Superficiale, si mantiene sulla superficie delle cose, quindi non si scende in profondità ma si rimane sulla superficie delle cose. Vedete oggi, la formazione di oggi è quasi tutta così, non si va in profondità, non si va nell'interiorità, non si capisce nulla di se stessi, si è tutti proiettati nel mondo esteriore. Poi dice dimezzata, cioè molto parcellizzata, quindi si conosce non nemmeno tutta la superficie ma un pezzetto e questo modo di procedere ci disumanizza. In altri termini potremmo anche dire che questo modo di formarci ci rende ottusi, cioè l'intelligenza e invece l'acutezza. L'acutezza è quella forma mentis che essendo acuta riesce a bucare la superficie delle cose e andare in profondità. No, la persona ottusa in profondità non ci va, resta sempre in superficie. Quindi la questione fondamentale affrontata da Adorno, dice la Giancarlo Ascola, è la questione della libertà di pensiero di fronte allo strapotere dei condizionamenti mediatici. E questa questione Adorno se la pone nel 1959, strapotere dei condizionamenti mediatici. Guardiamolo con i nostri simboli. Quindi, potere, dominio. Ma qui abbiamo uno strapotere, fortissimo uno strapotere, potere, dominio, attraverso i media, che schiaccia, che cosa? La libertà di pensiero. Vi sembra questo che oggi esista o no? Noi siamo liberi di pensare? Siamo liberi? Cioè possiamo veramente... siamo educati alla libertà del pensiero? La scuola di oggi ci educa alla libertà del pensiero? È una domanda retorica. Noi siamo educati al pensiero condizionato. Noi siamo educati da mass media. E i mass media, nei termini nostri, si possono rappresentare con una nuvoletta. Cioè i mass media, attraverso una nuvoletta, c'è una cosa, una propaganda, quello che chiamiamo propaganda, la propaganda scientifica, l'ingegneria del consenso, schiaccia l'io. L'io non è più in grado di capire la realtà e ovviamente, come l'io è anche il pensiero ragione, perde la libertà del pensiero. Perde quindi il fondamento della democrazia che è l'articolo 21,1. Esprimere liberamente il proprio pensiero, il proprio pensiero lo puoi esprimere liberamente se è un pensiero libero, altrimenti puoi esprimere solo un pensiero condizionato, cioè un pensiero che non è il tuo. Attraverso la tua bocca, la tua lingua, il tuo apparato fonatorio, attraverso il tuo cervello, chi è che parla? Parla la propaganda, che ha invaso la tua mente. Quindi tu hai una mente condizionata dalla propaganda. Adorno vede nella filosofia la possibilità di creare teoria dialettica capace di superare sistemi concettuali chiusi e in quanto tali inadeguati a comprendere la realtà. Quindi per lui la filosofia deve essere una teoria dialettica capace di superare i sistemi concettuali chiusi, inadeguati a comprendere la realtà. Passiamo a tradurre questa frase con i nostri simboli. Eccolo qua. Questo è una mente che è chiusa nei suoi sistemi concettuali. È prigioniera delle sue strutture portanti che gli rendono impossibile contattare la realtà. È la mente tipica di oggi, è la mente ossessiva. È la mente che anziché essere formata alla pieno sviluppo della persona, pieno sviluppo della persona, pieno sviluppo che solo consente quella acutezza di visione che riesce a penetrare la superficie e quindi a vedere dietro la propaganda. Cioè solo una persona che ha una formazione personale profonda può vedere dietro gli inganni della propaganda. La mente ordinaria che si ferma qui, che è formata male, non può vedere dietro gli inganni della propaganda e gli inganni della propaganda se li beve tutte le mattine a colazione e di questi vive. Quindi una mente, come ho detto prima, che vive di propaganda è una mente che non esprime la libertà del pensiero perché non pensa liberamente. Non è possibile. Questa è la tragedia di oggi perché le menti che vengono formate a scuola oggi, nell'università oggi e anche le menti degli intellettuali, poi vi dimostrerò, fanno parte di sistemi concettuali chiusi, inadeguati a comprendere la realtà. Sempre utilizzando i nostri simboli adatti a far capire le cose anche ai bambini, qual è la caratteristica di una mente che funziona così? Cioè per stereotipi concettuali? È una mente regolarmente complicata. Quando si esprime non si fa capire da una persona normale. Questo parlando di una mente intellettuale. Normalmente gli intellettuali, nonostante che dovrebbero essere i primi a svincolarsi dalla propaganda, a mio avviso non ci svincolano affatto, se non in pochissimi, perché rimangono prigionieri di quei fondamenti del pensiero che passano direttamente nell'inconscio delle persone e quindi poi elaborano situazioni concettuali complicatissime che non capiscono quasi mai, nemmeno tra di loro si capiscono. Figuriamoci gli altri che abitano qui. Ecco, quindi creano dei sistemi astratti, astratti, comprensibili solo a chi li produce, che però rimane all'interno di un mondo chiuso di concetti. Vi porterò l'esempio di Adorno stesso. Adorno concepisce la filosofia come il tramite teorico mediante il quale risponde concretamente ai problemi che emergono dalla realtà. Cioè, la filosofia come comprensione della realtà concreta. E fin qui credo che siamo all'ottica di Hegel, di Marx, di Gramsci. Però poi cosa dice? A differenza di Heidegger, Adorno si impegna una ricerca filosofica, che per affrontare la problematicità densa della realtà sociale, cioè per affrontare la realtà sociale nella sua complessità, deve sapersi radicare nella materialità della storia, cioè deve essere attenta alla realtà storica. Come diceva Gramsci, bisogna tener conto della realtà storica. E poi però dice, e non piuttosto rivolgersi a una metafisica dell'essere troppo distante dall'autenticità della vita. Allora, vediamo di analizzare bene questa frase. Dunque, praticamente Adorno ci sta dicendo concretezza storica. Stiamo aderenti alla concretezza storica, a ciò che realmente succede nella storia. E fin qui è la prima parte dell'insegnamento di Gramsci, no? Essere attenti alla concretezza storica, non ristagnare nell'idea astratte. Però poi dice, non fare come Heidegger, che Adorno definisce la parola, Heidegger viene liquidato in fretta, perché praticamente dice, ma Heidegger pratica una metafisica, una metafisica dell'essere. Quindi Heidegger lo identifica, Heidegger è una metafisica dell'essere. Allora, cari amici, capite qualcosa? Che cosa è Heidegger? La metafisica dell'essere. Beh, le persone, i pensieri normali capiscono qualcosa? No. Allora, cercherò di spiegare questo concetto. Metafisica dell'essere, Heidegger la spiega nei suoi testi, testi che sono più o meno grossi così, sono dei cubi, perché sono mille pagine. Essere e tempo è un libro fondamentale per comprendere la metafisica dell'essere, ma è incomprensibile. Su mille persone ci sarà qualcuno, uno che ci capisce qualcosa, gli altri no. Allora, vediamo di spiegare cosa ci dice Heidegger. Heidegger ci dice, attenzione a troppa concretezza storica, andiamo, scendiamo sotto la superficie e andiamo a indagare la nostra interiorità. Cioè, ascoltiamo, mettiamoci in ascolto, nei nostri termini, ci mettiamo in ascolto di che? Della voce dell'anima. Della voce dell'anima che è in connessione con il tutto, con il divino. E come ci si mette in ascolto con la voce dell'anima? Beh, ci sono pratiche da 7.000 anni che ci insegnano questo. Si chiama meditazione. La meditazione nelle sue varie forme serve proprio a dare ascolto alla parte più intima e vera di se stesso. Vai passando via via le superfici, come fosse una cipolla, non sta ad ascoltare alla superficie, via via vai al cuore, al centro. E questa voce ti mette in contatto con la verità divine. Ora, detta così, Adorno ci sta dicendo, ragazzi, non fate meditazione, fate concretezza storica. Ma questa è una bella minchiata. D'altra parte, e anche quella di Heidegger, spiegare la meditazione in un libro di mille pagine, ma poteva richiamarsi ai principi del Buddha, faceva prima. Non capisco proprio il vero contributo, se non che Heidegger è frutto di una cultura intellettualistica, di cui fa parte anche Adorno, praticamente che è incomprensibile agli esseri umani normali. Per cui questi grandi filosofi, sicuramente a essere intelligentissimi, stanno a lavorare in un mondo di idee che non servono ad altri, se non a pochissimi. Ecco. Ma io non dico che loro non dicano cose interessanti. Per carità, Adorno dice ottime cose, Heidegger anche, ma anziché andare verso una sintesi, anziché dire certo che ci vuole la concretezza storica. La concretezza storica ce l'ha già insegnata Gramsci, vabbè, insomma, ce l'ha insegnata Gramsci, ce l'ha insegnata Marx. Cos'è la concretezza storica? Ecco, guardare le cose così come sono, non ristagnare il mondo delle idee. E Heidegger ci dice attenzione, non stare solo nella storia, guarda un po' con gli occhi da più alto, guarda la realtà com'è e cioè fai meditazione. Ecco. Ora, adesso, nel prossimo video, vi dirò come queste cose si possono spiegare in modo, quali sono le conseguenze di questo modo di fare filosofia. Questi filosofi, come Adorno, come Orkheimer, vivevano in un centro di Francoforte, beh, loro manco quasi si salutavano tra di loro. Erano così concentrati sul loro mondo interno filosofico sulla complicazione delle loro teorie che praticamente manco si salutavano, non facevano incontri. Uno dice, è un istituto di scienze sociali, ma porca miseria, faranno delle riunioni per scambiarsi le idee? No, ognuno per sé. Eh, ma già questo indica che abbiamo una tendenza alla disgregazione. Bene. E quindi, quando si ha la tendenza alla disgregazione, si ha la tendenza alla complicazione dei concetti. E uno può dire, ma Mauro, ma tu stai bestemmiando, perché questi sono i più grandi filosofi mai esistiti. Io dico, certo che lo sono, ma sono frutto di una cultura che è quella che avevo detto prima, che è questa, della separatività. Allora, ognuno deve fare il suo, deve scrivere il suo libro senza magari consultarsi con altri, oppure fa uno scambio con un altro, ma per cercare di dominare l'altro e sembrare migliore di lui. Allora, c'è un altro modo di fare filosofia? Ma Atma Gandhi. La verità è una conoscenza, è la conoscenza che si radica in una comunità. Era una comunità? No. Quindi quella conoscenza non era, secondo Gandhi, una conoscenza vera. Si radica in una comunità e nelle relazioni vitali che l'annervano. Era una comunità, era ricca di relazioni vitali. No, ognuno faceva per conto suo. Da qui viene la complicazione infinita. Allora, ecco che dobbiamo, per fare un passo avanti, perché loro certamente comunque sono dei grandi filosofi, però noi dobbiamo immaginare questo. Loro effettivamente sono persone intelligentissime che stanno arrampicando su una parete bestiale, stavo grado di difficoltà, dove più sopra ci sono dei tetti che non riusciranno mai a superare. Però sono bravissimi questi arrampicatori, sono bravissimi, intelligentissimi. Allora Gandhi ci sta dicendo, abbandonate questa parete, non seguite persone così, non andate a scuola da loro. Andate a scuola, una scuola diversa. Andate in una scuola che crea una comunità, una comunità dove possono partenere persone più intelligenti, meno sveglie, più competenti, più colte, meno colte, insomma, tutti i tipi di persone, però alla fine arrivano tutti qua, arrivano al pianoro in cima, una piccola collinetta c'è da fare. Ecco, quindi perché? Perché la comunità è il luogo della verità, ma perché nella comunità, cari ragazzi, quando una persona parla, e la comunità siamo tutti uguali, chi parla si deve spiegar bene, perché se no gli altri dicono, no, questo non capisco. Allora ci riprova, no, non ti capisco. Allora chi vuol parlare, pian pianino, per forza dovrà parlare in modo semplice e dovrà dire le cose che diceva scalando l'ottavo grado, dovrà dire scalando una parete di secondo grado, dove tutti possono andare. Ecco, questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi. Ecco, quindi noi sediamo, sediamo sulle spalle dei giganti, possiamo leggere i libri di ottavo, nono grado che sono stati scritti, ma per favore ragazzi ricordatevi che queste persone che li hanno scritti non vivevano in comunità, non vivendo in comunità non avevano fatto l'esercizio necessario a fare in modo che un intellettuale sia davvero utile alla comunità in cui viviamo, alla comunità umana. Ecco, l'hanno fatto come hanno potuto, l'hanno fatto perché hanno vissuto sempre, regolarmente, in situazioni culturali di potere, dominio e di discregazione e hanno fatto quello che potevano. Bene, è il momento di cambiare registro e dare, come dire, il giusto valore alle parole di Gandhi, il quale a sua volta non nasce da solo isolato, ma in comunità con i più grandi pensatori spirituali dell'umanità, dal Gesù al Buddha al Ramakrishna, insomma, Gandhi non nasce dal nulla, fa parte di una comunità con cui continuamente dialoga, si forma attraverso la disciplina e la studio dei grandi maestri. Bene, questi intellettuali invece devono fare per conto loro. Ecco, questo è il loro problema. A questo problema noi ci dobbiamo liberare per poter portare a compimento la grande rivoluzione costituzionale del pieno sviluppo della persona umana, che non vuol dire una persona che legge essere e tempo come se fosse Topolino, ma una persona che il nucleo centrale di essere e tempo lo comprende perché frequenta persone, ovviamente più esperte di lui, che lo sanno spiegare in pochi minuti. Conclusione, pieno sviluppo della persona umana, pieno sviluppo della democrazia come pratica spirituale per l'elevazione della coscienza di un popolo, risiede nel pieno sviluppo della capacità di risonanza e di empatia con gli altri esseri umani. In Oriente questa capacità si chiama di conoscenza, si chiama Jinana. Jinana, la risonanza, si attua in una comunità dove, come avevo detto prima, tutti i membri della comunità possono comprendere ciò che è essenziale. L'opposto di Jinana è Avidia. Avidia è la conoscenza concettuale. Avidia viene da alfa privativo più vid, cioè colui che non vede. La sola conoscenza concettuale si ferma qui nel pieno sviluppo della persona umana. Non raggiunge questo livello, che è il livello dell'anima e l'anima è il centro dell'empatia e della risonanza di ogni individuo, quello che ci rende veramente umani. Quindi attenzione cari ragazzi a non perdervi troppo in elaborazioni concettuali astrate. E con questo vi saluto e ci risentiamo presto.